Io il 16 sarò in piazza a manifestare con i commercianti, speriamo che l'unione faccia la forza. Ci dispiace che vogliono pedonalizzare questa zona e stanno svuotando Treviso con il discorso di centri commerciali, con la Piani, stanno portando fuori tutto quello che sono le attività del centro storico fuori Treviso e noi di questa cosa siamo stanchi. E poi di questo discorso di pedonalizzare il borgo, che secondo me è un posto bellissimo, va tenuto aperto alle macchine perché se no i commercianti non riescono a lavorare. Queste le motivazioni di commercianti e residenti del centro storico di Treviso per lo sciopero del commercio di martedì 16, negozianti agguerriti sul piede di guerra più che mai come Gigi che per vent'anni ha ricoperto la carica di presidente provinciale degli artigiani. È consueto che gli amministratori fanno quello che vogliono senza ascoltare le persone, cioè quelli che lavorano nel campo. È una roba normale, da 40 anni che sono qui è sempre così. Ed ecco cosa chiederanno martedì all'amministrazione comunale. Io vorrei vedere più giovani che aprono attività in centro, farla vivere non da vecchi ma da giovani. Secondo te il sindaco vi riceverà? Non lo so, non credo, non lo so. Io non riesco a capire cosa stia facendo, vogliono far morire la città o la vogliono far rivivere. Noi avremmo piacere che il 16 ci fosse anche il sindaco con noi, anzi faccio un invito, se c'è abbiamo molto piacere.